Un patrimonio immenso di dati del Parco archeologico di Pompei raccolti in decenni ora sarà alla portata di tutti con un click per consultazione, studio e approfondimento. Un archivio di vetro trasparente, disponibile e accessibile a tutti, non solo a studiosi e con la possibilità di interagire e integrare informazioni utili. Pompei apre i suoi archivi digitali attraverso il sistema Open Pompei. Una rivoluzione nella consultazione dei dati sul patrimonio archeologico del Parco nell'ottica della massima accessibilità e interattività nella ricerca e nella fruizione. Sono disponibili online dati, informazioni, immagini e video sulle strutture archeologiche, case edifici, reperti, affreschi presenti o distaccati, con indicazione della loro provenienza e l'attuale dislocazione, ad esempio in un museo o in un deposito. Un passo avanti nella ricerca a disposizione di visitatori, studiosi, operatori turistici, guide o anche semplicemente appassionati, che potranno accedere al sistema da qualsiasi dispositivo. Sarà accessibile infatti anche attraverso l'app My Pompei. Attraverso il Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, sottolinea il direttore Gabriel Zugtrigel, il Ministero sta attuando un processo di trasformazione digitale di tutti i luoghi della cultura statali, che possiedono, tutelano, gestiscono e valorizzano i beni culturali, nell'ottica oltre che della piena accessibilità, anche del miglioramento della tutela e della conoscenza. La consultazione delle informazioni è basata su un'interfaccia molto semplice e intuitiva che, mediante una mappa, permette all'utente di interagire con il sistema e visualizzare i vari livelli informativi, navigando tra regioni, insule, unità catastali e vani. Utilizzando poi il motore di ricerca integrato, è possibile anche ricercare le informazioni desiderate circa unità catastali oppure reperti archeologici. Grazie per la visione!